Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video Allora, in questo video, come avete potuto intuire dal titolo, vi voglio parlare delle protagoniste invecchiate Sì, invecchiate, perché? Perché non so se voi l'avete visto, però se non l'avete ancora visto e non vi interessa fino all'ultimo episodio Vi consiglio di chiudere questo video perché vi potrei rovinare la sorpresa Tempo fa mi è capitato di vedere un video, solo vedere la scena, non ho voluto sentire la canzone Praticamente è una canzone che è uscita dall'ultimissimo episodio che verrà trasmesso verso il 19 ottobre Mi sembra, il 19, che è proprio l'ultimissimo Le protagoniste sono vecchie praticamente Che secondo me la loro età in quell'episodio è verso i 50-55 Perché già hanno le rughe, qualche cappello bianco, quindi penso che sia quella l'età Secondo me, secondo me, ve ne voglio parlare perché? Perché questa cosa, noi non dobbiamo vederla come una fine, ma come un nuovo inizio Perché se i produttori della serie hanno pensato di fare un episodio in cui fa vedere che sono passati non so quanti anni Cioè dal doppio episodio che doveva essere quello finale, diciamo così che poi così non è Quindi si presume che forse, dico forse, secondo una mia teoria La G5 sarà con le stesse protagoniste, soltanto vecchie, più vecchie, diciamo così Come abbiamo visto, come lo vedremo nell'ultimo episodio O al massimo farà vedere che ci saranno delle nuove protagoniste Che però queste protagoniste saranno le figlie di quelle attuali Perché si presume che se loro sono invecchiate Io spero che in quell'episodio, non lo fa vedere nella canzone Però io spero che si siano sposate Non dico tutte, però qualcuna Per il resto ci tocca aspettare e vedere quello che succede Io spero sinceramente che sia un buon inizio Che quindi in realtà noi non dobbiamo Pensare, oddio finisce la serie Perché non è che finisce Perché alla fine ne faranno un'altra Che diciamo che non finirà Ecco, cioè finisce soltanto questa generazione Però poi ne faranno un'altra totalmente nuova Senza contare che nel 2021 Faranno un film che pare che sia sulla G4 Punto è che facendo l'ultimo episodio In cui le protagoniste sono vecchie Perché viene, tra virgolette, viene ambientato diversi anni dopo Così facendo lasciano un sacco di Di cose in sospeso Perché alla fine cosa è successo in quel lasso di tempo? Cioè dal penultimo episodio All'ultimo episodio Sono passati diversi anni Nel frattempo che cosa è successo A queste protagoniste? Sono i personaggi che noi abbiamo conosciuto Dalla prima stagione fino all'ultima Sono ancora vivi? Oppure c'è qualcuno che è deceduto? Che altro sarà successo? Si sono sposate? Hanno figli? Non è detto che Che nell'ultimo episodio Tutte queste domande che io mi sto facendo Verranno svelate Però è chiaro che essendo un episodio di 20 minuti scarsi Alla fine E' difficile racchiudere in 20 minuti Tutto il loro passato Quindi secondo me Questo sia soltanto Un nuovo inizio E spero Spero che La quinta generazione Ovvero la G5 Spero che sia In realtà Il racconto Cioè che Come protagonista avremo Le figlie Delle protagoniste attuali Non so A me piace pensarla così Comunque ci conviene aspettare E vedere quello che succede A presto ragazzi